Che ansia! Buongiorno! Disturbo? Volevo svegliarti, ma vedo che sei già sveglio. Cos'è quella faccia? Quale faccia? Hai già incontrato mia moglie, vero? Ecco perché quella faccia. Ma io non ho niente contro gli stranieri, si capisce? No, certo che si capisce! Ti sembra una domanda da fare! Ti sembra una risposta da dare! Non mi ho detto niente, mi raccomando, lui meno parla meglio sta! Io invece parlo sempre troppo! Sono fatta così! Sì! Me ne sono accorto! Infatti non è la prima cosa che ti salta in mente quella di farti coccolare da uno sconosciuto! No, infatti non mi farei mai coccolare da uno sconosciuto! Che cosa c'è dentro quella borsa? Uno smartphone, un usato, un samsono di pane! Che cos'altro c'è in quella borsa? Il nostro è un servizio platonico di contatto personalizzato per offrire un'esperienza unica di recupero della felicità perduta! Che cos'altro! Che cos'altro! Che cos'altro! Che cos'altro! Che cos'altro!